Musica Musica Essere o non essere, questo è il problema. Cari amici del canale dei roboti del giornalista, ben trovati. Ben trovati in questo video un po' particolare, diverso dal solito, perché vi devo ammettere non ho avuto tempo di fare la mia consueta recensione. Perché? Perché lunedì, proprio lunedì, inizieranno i miei corsi all'università con studenti che probabilmente non vedrò, non incontrerò mai di presenza, ma sarà tutto un corso online, come ormai accade per qualunque cosa, loro non conoscono ancora chi sarà il loro professore, per cui sarà divertente vedere l'impatto che avrò su di loro. E detto questo, cercavo di... Mi sarebbe piaciuto fare un video quest'oggi con qualcosa di diverso dal solito, qualcosa di più leggero, più veloce e che mi permettesse, appunto, di avere tempo per poter comunque tenervi compagnia con un video. Ecco, purtroppo non ho trovato assolutamente niente che potesse fare al caso. Avrei voluto qualcosa, come dice la pubblicità, qualcosa di ambrogio, qualcosa... Perché non è fame, quindi non un robot, ma qualcosa che fosse legato al mondo dei robot, fosse legato a Mazinga, a Goldrake, ai nostri amati beneamini degli anni 70, ma che non fosse proprio un robot modellino e da recensire nella maniera classica. Purtroppo, però, non ho trovato assolutamente niente che facesse al mio caso. Per cui, io, niente, faccio ammenda di questo, bevo qualcosa con voi, anzi faccio un brindisi con voi, faccio un brindisi e niente. Peccato, perché sarebbe stato carino. A volte io mi chiedo, ma l'inventiva delle aziende? Cioè, fare qualcosa che sia legato al nostro mondo, ma che non sia il solito robot, ma che sia un oggetto magari utile, che possa trasformarsi in qualcosa di cui andare fieri e da usare tutti i giorni in casa. Tipo, che so, sarebbe bello un robot trasformare la testa di un robot in una tazza, in una tazza di metallo, tipo un termos, tipo un termos che potesse tenere fresche le nostre bibite quando chiacchieriamo. Cioè, magari, non lo so, una testa di mazinga che avesse l'interno in metallo per tenere fresco, tenere fresco una bibita, per esempio. Ecco, proprio così. Comunque non c'è, purtroppo non c'è e quindi niente. Quindi, diciamo proprio, parliamo del nulla quest'oggi. Parliamo di queste cose che, perché ci vorrebbe veramente poco, ma anche se fosse apocrifo, cioè se si trattasse di un oggetto apocrifo, cioè creato magari da un'azienda cinese poco responsabile, con pochi scrupoli, che utilizzasse mazinga per fare una tazza, una tazza dall'interno refrigerato, con l'infigio di mazinga. E la cosa bella, potrebbero farla, per esempio, tutta in plastica all'esterno, la potrebbero fare tutta in plastica all'esterno, magari con una maniglia, per poterla utilizzare meglio, e con la parte interna di metallo per tenere fresche le bibite. E poi, per portarle in giro, si potrebbe, che so, chiudere, immagino, ipotizzo, si potrebbe chiudere con la famosa corona della parte superiore di mazinga e avere quindi una tazza di mazinga Z da potersi gustare in casa. Peccato che non esista, è veramente un peccato, perché è fatta, potrebbe essere fatta molto bene, quindi avere una sorta di tenuta stagna nella chiusura, in maniera tale che il liquido non vada tutto in giro. Sì, sarebbe molto carino, sarebbe molto carino se poi, se poi questi avessero, questi geni, che non esistono, avessero anche, così, incluso nella confezione un accessorio tipo questo, che incastrato nella sommità della della tazza, potesse trasformare lo stesso oggetto in un posacenere. Ecco, in questo caso si avrebbe un oggetto con l'effigie di uno dei nostri amati robot, però multifunzione, cioè potrebbe essere usato, magari non insieme, perché non sarebbe molto carino, però sia come posacenere che come mag per le nostre bibite preferite. Ecco, direi che bisognerebbe deciderlo prima, bisognerebbe deciderlo prima se usare, se destinare questo ipotetico Mazinga come bibita, come portabibita o come posacenere, perché direi che usarli alternativamente potrebbe riservare delle sgradevoli sorprese a livello gustativo, insomma. Detto questo, l'idea sarebbe molto bella, bisognerebbe portare un'idea del genere a un produttore cinese che ci riesca a realizzare una cosa del genere anche senza licenza. Perché poi il fatto di poter chiudere anche un eventuale portacenere presuppone al fatto che gli eventuali cattivi odori della cenere e dei mozziconi di sigaretta non vadano in giro per la stanza perché noi potremmo chiudere ermeticamente il nostro posacenere. Peccato, vabbè, peccato perché sarebbe una grande idea. Sì, magari una roba semplice con il Brian Condor scusate, con l'aliante slittante con il Jet Builder che non si stacca dalla sede quindi materiali relativamente poveri cioè tutto in plastica e metallo però comunque intelligente un oggetto intelligente diciamo che le proporzioni bisognerebbe stare attenti un po' alle proporzioni perché per esempio se fosse come questa io avrei fatto le corna un pochino più lunghe però è anche vero che con le corna più lunghe non si sarebbe più riuscito a usare come bicchiere perché uno si sarebbe infilato un cornino nel naso invece in questo modo comunque si combina la forma con l'effetto in maniera utile ecco, poi se dovessimo produrre un oggetto del genere o se un oggetto del genere esistesse sarebbe bello avere una scatola una scatola una scatola di cartone poverissimo per mantenere i costi i più bassi possibili magari che riciclasse immagini di altri robot veri cioè di modelli veri della nostra collezione per esempio una scatola di questo tipo che, ripeto, non esiste perché questa cosa di cui vi sto parlando è solo una mia idea una mia idea che si potrebbe realizzare avrebbe qui un'immagine di un SRC che non c'entra assolutamente niente e si chiamerebbe S Gokin serie 12 che è un altro modello tra i nostri in collezione ecco, quindi una scatola che non c'entra assolutamente nulla perché qui, in realtà, su questo lato abbiamo un Dynamic Classic che anche qui non c'entra assolutamente nulla confermando che si tratta di una realizzazione assolutamente apocrifa l'unica cosa l'unica indicazione che avremmo sul contenuto del sul reale contenuto che noi abbiamo acquistato è questa piccola scritta con scritto Alloy Cup che vuol dire tazza di metallo ecco, questa sarebbe l'unica indicazione reale di quello che noi saremmo andati a comprare ecco quindi 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 io finisco di salutarvi con purtroppo mi spiace non avervi parlato assolutamente di nulla oggi però ripeto sarebbe bello se questo oggetto esistesse e costasse poco tipo uno lo potesse comprare su aliexpress a 15 euro ecco 15-20 euro al massimo sarebbe carino naturalmente ci sarebbe subito qualcuno che lo vendirebbe su ebay a 40-50 euro ma comunque anche 40-50 euro per una testa di mazinga con la doppia funzione di poter essere usata come tazza rifrigerante o come o come posa cenere sarebbe comunque un'idea molto molto carina ecco peccato che non esista e quindi peccato che io oggi abbia voluto solo fare quattro chiacchiere con voi senza parlare di nulla di interessante e mi spiace non aver trovato qualcosa che potesse corrispondere alla descrizione che vi ho fatto al racconto che vi ho fatto perché sarebbe stato molto carino detto questo spero per settimana prossima di avere il tempo per fare una nuova recensione ma ma vi voglio ricordare assolutamente di esserci alla diretta di mercoledì 17 alle 9.30 di sera perché nel canale dei robotti del giornalista si intervisterà un viaggiatore del tempo è un intervistare un viaggiatore del tempo ma naturalmente se vi fidate di me suppongo possiate immaginare che abbia una storia sufficientemente interessante divertente e appassionante da raccontarvi con questo dal canale dei robotti del giornalista è tutto che bello che sarebbe se esistesse una tazza refrigerante isolante a forma di mazinga che potesse essere usata anche posacena purtroppo non esiste ma ce ne faremo l'abitudine a tutti un caro abbraccio e a presto a mercoledì sera grazie ciao a presto